Primavera è, secondo me, di Simone Ragione-Rimaldi Primavera è, secondo me, il capodanno della natura, la luce che domina sul buio, la gioia di uscire fuori di casa e ripulire da cose tristi e inutili, respirare un'area nuova, avere o consolidare amore e amicizie, gustare ciliegie e pesche, assaporare il profumo dei fiori, vedere il mare per prepararsi all'estate. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie.